Il presidente della provincia di Bolzano, Luis Dorvalder, accompagnato dai vertici della ripartizione opere idrauliche, il sindaco del posto e la protezione civile, inizia il sopralluogo alle località più colpite dall'ondata di maltempo che, la notte del 5 agosto, ha interessato questa parte dell'Alto Adige. Furono due le vittime e 18 milioni gli euro di danni. Rispetto a poco più di un mese fa, sono stati compiuti grandi passi in avanti grazie all'impegno della popolazione, di chi ha coordinato e portato a termine gli interventi e grazie all'impegno della provincia. Le opere più urgenti alle infrastrutture sono state completate e circa la metà dei prati e dei campi coltivati sono stati sgomberati dal materiale. Da un lato vedo che i danni erano enormi, all'inizio avevamo pensato a circa 12 milioni, adesso siamo già arrivati a 18 milioni, però dall'altra parte possiamo essere anche contenti quando vediamo che la gente non chiede solo, ma fa anche. Quando vediamo questi prati che nel frattempo sono tutti sgomberati, se vediamo cosa ha fatto l'azienda dei Bagini Montani, cosa hanno fatto i comuni, la protezione civile, c'è la collaborazione da parte di tutti e questo è il bello. Lei vedrà fra un mezz'anno, non si vedrà più niente, tranne i due morti, purtroppo diciamo lì le donne sono morte e lì non si può fare niente. La giunta provinciale ha stanziato tramite il fondo di riserva altri 4 milioni di euro, 2 milioni per gli interventi dei Baccini Montani, 1 milione e mezzo per la protezione civile, altri 500 mila euro per l'agricoltura. Noi siamo molto contenti di come stanno procedendo le cose perché siamo pienamente nei ritmi che ci siamo prefissati, si parla di lavori di ripristino di queste aree e abbiamo lavorato secondo una lista di priorità, siamo più o meno al 50% di questa lista delle priorità e questo per un evento così grave è quello che si poteva fare. Il presidente Don Valder durante il sopralluogo ha evidenziato non solo la funzionalità della macchina della protezione civile provinciale ma anche l'impegno della popolazione locale, tutti hanno fatto la loro parte. Senza la collaborazione di tutte le sezioni della protezione civile, cioè Vigile del Fuoco però anche Soccorso Alpino e anche i cantieri e le aziende dei Baccini Montani e anche delle strade eccetera, se non tutti avessero garantito questa collaborazione non avremmo potuto fare tutto ciò che abbiamo fatto. Se io penso solo ai Vigile del Fuoco, io sono stato informato alle 3 di mattina a Falses che c'è questa alluvione, mi sono alzato subito, sono andato lì, quando sono arrivato lì verso le 4 forse un po' prima erano già 450 volontari e anche il corpo permanente dei Vigile del Fuoco che lavoravano, facevano tutto il possibile perché io sono convinto che lì non potevano ancora scomberare però potevano evitare, deviando le acque, potevano evitare ulteriori danni. Le opere di ripristino della situazione precedente e gli interventi per la messa in sicurezza del territorio dovrebbero concludersi prima dell'inizio dell'inverno.